Eccoci qua, uno degli ultimi esercizi di questo basic level, questo livello basico di preparazione all'utilizzo della propria voce è un suono che ha a che fare con le posizioni del nostro palato molle Possiamo definire due principali posizioni del palato molle, aperto e chiuso Aperto, quando è molto rilassato il palato molle, molta aria e molto suono vanno a finire dentro le cavità nasali Quindi abbiamo una grande quantità di aria e anche una grande quantità di suono Quindi viene fuori un suono molto nasale, quindi un palato molto rilassato Se invece il palato andiamo a chiuderlo, un po' come quando facciamo finta di essere raffreddati Quando io faccio finta che mi è venuto il raffreddore e non voglio figgere per andare a scuola una volta Vado a chiudere il palato molle là dietro e quindi l'aria non può più accedere alle cavità nasali Il suono vi accede per risuodanza, badon, per accesso diretto insieme all'aria Quindi palato chiuso, dbd, e sento che se il sezzo debita, cerco di percepire dove si chiude Non è andato molto aperto, non è distancato Cosa da fare è provare a muovere durante un suono Sentire che il palato chiude, apre, chiude, apre, chiude, apre Provate, praticate questi suoni fino ad averne confidenza perché poi in futuro li riutilizzeremo Ricorda però, tutti questi esercizi è meglio se vengono seguiti da un buon insegnante di canto Da un buon vocal coach, quindi ricordati di trovarne uno Se ti va, lascia un like e iscriviti al canale E clicca anche sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti Per qualsiasi informazione, se volessi contattarmi per seminari, workshop o lezioni private Trovi tutti i miei contatti qua sotto nei credits del video Oppure nella schermata finale vedrai tutti i miei contatti social E quindi potrai anche seguirmi online Thank you Ciao Ciao Ciao